Back in ETV Hello World E benvenuti a una nuova puntata di Balconi TV Bologna Io sono Rando E io sono Boba E lui è Fabio Curto E oggi ci suona il rospo innamorato See you later Non so se te l'ha detto la tua mamma O se te lo dirà Mi hai visto lì piantato in corridoio Con una scopa in mano Sicuro che lo sa Davanti a una tua foto Avevi sedici anni e sorridevi Non avevi rabbia o cattiveria Nei pensieri non mi conoscevi Contavo le tue lune Dodici lentiggini per guancia Ti contavo i denti Ce n'era uno di pelle Hai un'ombra sulla pancia Non mi senti E tutte quelle pulci nei capelli Che belli i tuoi capelli Un nido di fagiani Un abbeveratoio cristallino Erano gli occhi Un'acqua che veniva da lontano Poi mi sono perso Rassicura la tua mamma Se ne è andato E l'ho spo innamorato Non so se ti hanno detto del mio viaggio Se il fumo parlerà Col treno io cucito questa valle Così come mi hai chiesto Di noi che ne sarà Un certo di mestiere Avrebbe fatto meglio Lo so Ma sono un principiante Ho paura di sbagliare In tasca Mi son messo Qualche scampolo Perché volevo essere il colletto Che ti stringe Se vorrai scappare Mi dovrai toccare Volevo essere Volevo essere la volpe Nel pollaio E tenerti sveglia In una notte Che ti saresti persa Voglio essere l'albero più alto L'albero ubriaco Nei giorni di tempesta In piedi Mentre piangi alla finestra Per te vorrei cantare E fare festa Per te vorrei morire Rassicura La tua mamma Se n'è andato Il rospo Innamorato Grazie mille Fabio Grazie mille Per essere qua con noi oggi Grazie a voi Grazie a voi Un grandissimo piacere Per essere sui tetti di Bologna Sul tetto di Bologna Siamo sotto il cielo di Bologna Oggi Abbiamo Fabio Curto qua con noi Che ha appena suonato Un pezzo molto bello Grazie mille per averlo fatto Ti chiederei subito una cosa So che tu hai iniziato Come artista di strada Giusto? Sì Hai fatto quello che è Insomma La classica gavetta Diciamo Sei passato dalla strada Quelli che sono dei pacchi Molto più grossi Fino ad arrivare addirittura In tv Ti chiedo un po' Com'è stato questo iter Com'è stato questo passaggio Diciamo E se torneresti anche indietro Volentieri È stata un'esperienza nuova Come tutte le rotture complete Con l'ordine delle cose Quando sei Quando ti ritrovi magari Quando hai trovato il tuo equilibrio Intorno alla musica Quello che fai in una città Perché viene distrutto Così da una telefonata Non può non essere un po' traumatico Quindi il passaggio è stato È stato forte Ho dovuto affrontare Delle tensioni fortissime Palchi come Quello di Ray 2 Insomma Chiaramente non ero abituato Ad affrontare quel tipo di palco scenico La cosa però Che mi sono portato proprio dietro È lo spirito Con il quale avevo scelto Di fare arte di strada La serenità con la quale lo facevo Quindi ogni volta che salivo sul palco Con questa chitarra tra l'altro Che non ti ha mai abbandonato? No Mi hanno abbandonato più le persone Che lei Lei non mi ha mai abbandonato Fortunatamente No Salendo con la stessa Con lo stesso stato emotivo Che utilizzavo anche quando suonavo in strada Che era il posto più pulito Dove suonare Posso dirlo tranquillamente anche adesso Dopo aver fatto Tutta una serie di esperienze Un po' particolari Poi dalla tv Sono passato a palchi veramente più grandi A piazze insomma Dove mi lanciavano Mi squinzagliavano da solo Con la chitarra Facevo né più e ne meno Quello che facevo in strada Stesso repertorio Tutto in inglese Immaginate nelle piazze del sud Dove è importante cantare in italiano Connessione Tiravo giù quest'ora e venti di inglese Era veramente né più e ne meno Lo spettacolo che facevo per strada E di questo sono molto felice Che ho proprio conservato lo spirito Il perché faccio musica Perché ho cestinato la mia laurea E ho iniziato a fare solo questo Perché so che sei laureato qua a Bologna Se non vado errato Mi sono laureato qui in Tortellonogina Mi sono laureato in scienze politiche Io so di più Io so in criminologia Sì era indirizzo criminologico in realtà Però poi la specialistica in criminologia Verre e propria non l'ho fatta Perché a quel punto ho dovuto scegliere Se fare la specialistica Oppure specializzarmi in Diciamo in quello che mi piaceva Quello che ho sempre fatto da bambino Non era l'unica cosa che facevo la musica Non sono di quei musicisti che dicono La musica è tutta la mia vita È una frase che trovo veramente fastidiosa La vita è un'altra cosa Cioè la musica è un linguaggio meraviglioso Che esula dal linguaggio verbale Ma lasciamo perdere la musica e la mia vita La vita va vissuta veramente In tutta la sua complessità E a proposito di vita e di Bologna So che tu ti sei appunto trasferito da Acri a Bologna E ti chiedo come sei arrivato Come hai scelto queste latitudini Per la tua vita futura Allora io volevo un po' scappare Dal mio contesto Un po' dal mio quartiere Da dove si chiamano Rioni Dal mio paese Anche un po' dalla Calabria Semplice curiosità Volevo andare fuori Studiare fuori Vedere un po' Poi Bologna perché C'erano già un tot di amici E una volta venendo qui a Bologna Mi affascinò Piazza Santo Stefano Vedi questo mare Questo fiume di persone Di ragazzi che suonavano Stavano insieme Condividevano delle esperienze importanti C'era il latino americano C'era il russo C'era l'americano E questo mi ha affascinato molto Perché era tutto racchiuso in un centro In una città poi relativamente non grande Cioè relativamente piccola insomma Sì è una via di mezzo Tra una città enorme E un piccolo villaggetto E una piccola cittadina Certo E questo mi ha affascinato molto Sono venuto il 2007 E sono ancora qui E sono dieci anni quindi E sono dieci anni Mannaggia E il tempo passa per tutti purtroppo Ho saputo anche che Una grossa parte del tuo repertorio È in inglese E però noi non ne siamo a conoscenza Nel senso che non l'hai mai pubblicata È stata una tua scelta O stai semplicemente cercando l'occasione Magari le persone giuste con cui produrre Voglio pubblicarlo Esattamente Proprio così E in strada ho iniziato E seguendo anche delle Canzoni molto famose di Bruce Springsteen Insomma pezzi che adoravo in particolare Poi ho iniziato a comporre Ma avevo già prima un repertorio discreto in inglese Poi è diventato davvero grande Un po' pesante E quindi ho iniziato a registrarli Per i fatti miei Però non li ho mai pubblicati realmente Se non in un concerto intero Al teatro di Granarolo Quindi dal punto di vista del supporto fisico Non c'è Non c'è mai stato Ci sono andato molto vicino Con la produzione Che mi ha affiancato a Granarolo Quindi una produzione con violoncello Pianoforte E sequenze elettroniche Ci sono andato molto vicino Però per quello credo che ci sia tempo Ci sia tempo Noi l'aspettiamo con grande ansia Giudicare da quello che è l'italiano Speriamo che l'inglese sarà solo meglio O peggio Vedremo Comunque Ultimissime cose proprio brevemente So che ad aprile è uscito un singolo Che si chiama Via di qua Parlacene proprio brevemente Già che ci sei Dici qualcosa su dove trovarti Contatti Cose giusto per gli affessionados O i futuri affessionados Questa è stata una via di mezzo Come il brano che ho suonato prima È stata una via di mezzo Proprio tra il folk Un po' in inglese Che mi piace Però ho cantato in italiano Che quindi per forza Perde alcune caratteristiche Ma ne acquisisce delle altre Racconta un po' Quella che è stata la storia Subito dopo il talent Questa avventura E quello che è successo Più o meno negli ultimi due anni E alcuni valori Ai quali sono particolarmente attaccato Sono ben chiari nella canzone E sono molto molto contento Della produzione Con Simone Bertolotti È stato veramente un momento Particolarmente bello Partiremo in band quest'estate Portando questo tipo di spettacolo E con album Probabilmente un po' più avanti A ottobre e novembre Non mi ricordo l'altra domanda L'altra domanda te la ricordo io Se qualcuno volesse contattarti Sapere qualche info In social Il mio spirito di merchandising spiccato Ecco Fabio Curto www.fabiocurto.it Pagina Facebook Fabio Curto Pagina ufficiale Twitter Instagram Più o meno la stessa cosa Perfetto E li abbiamo tutti Quindi Quindi se Fabio vi piace Almeno la metà Di quanto piace a noi Contattatelo Cercatelo E seguitelo Noi vi diamo appuntamento Alla prossima puntata di Balconi TV Bologna Grazie mille ancora Fabio Per essere stato qua con noi Grazie a voi Ci vediamo alla prossima Bella ai ragazzi Ciao Back in ETV Grazie a tutti Car будут Grazie a tutti